C'è stato un momento nel quale l'Europa ha iniziato a scricchiolare, è stato quando nel 1992 è partito l'assedio di Sarajevo e la comunità internazionale si è voltata dall'altra parte. In quel silenzio, rotto solo dal civile o delle pallottole, cercano la loro fuga d'amore ad Miraisnich e Bosco-Burkic. La loro è una delle tante storie che raccontano quel conflitto nel quale i peggiori di tutte le parti in lotta prenderanno il sopravvento. Lei e di tradizione musulmana, lui ortodosso, sono l'esempio di una città che fino a quel momento è stata simbolo di convivenza, un simbolo che deve essere appunto abbattuto. Il fuoco dei cecchini mette fine al loro amore il 19 maggio del 1993 sul ponte del quartiere Gorbaliza. Resteranno stesi su quel ponte, abbracciati l'uno all'altro, per otto lunghi giorni, fino a quando un pietoso cessato il fuoco permetterà di recuperare i costi. La storia del Romeo e Giulietta dei Balcani rivive nelle pagine di Miriam Tari e Andrea Roccioletti, due intellettuali che vivono a Torino e che con una casa editrice torinese hanno deciso di dare alle stampe un libro che aiuta a riflettere sui rischi del presente. Ad Miriam e Bosco hanno vissuto questo, la trasformazione repentina di una società in un'altra cosa, che neanche loro sapevano esattamente che cosa fosse. Si sono trovati poi su fronti opposti. Fa effetto pensare alla Sarajevo che otto anni prima dell'inizio dell'assedio, imbandierata proprio come lo era la Torino del 2006, festeggiava la sua Olimpiade Invernale in luoghi di sport che pochi anni dopo diventeranno teatro di violenza. Possiamo ricordare quello del podio olimpico che diventa poi un luogo di fucilazione per i prigionieri. Una storia che ci insegna che il male può nascondersi dietro l'angolo e che quando arriva, spesso, non ci lascia che una fuga disperata. Il telegiornale termina qui, buona serata.